Se dico NIO io penso a due cose, two things, the first one is NIO di Matrix quello, e la seconda penso a quelli che fanno le macchine, che sono un'azienda governata dal governo cinese di fatto come praticamente tutte le aziende delle macchine che prendono posto in Cina e esportano in tutto il mondo, ma di fatto è anche un'azienda che non è certamente numericamente parlando quella che tutti si aspettavano, cioè tutti si aspettavano che a fronte di una mega tecnologia, agli unici che possono competere con Tesla, le batterie che si cambiano da sole dentro al box, vai dentro con la macchina in quattro minuti e ti cambiano la batteria, tu ce l'hai sempre nuova, è sempre carica, tutto bellissimo, tutto bellissimi, è tutto fichissimo, però alla fine della fiera le NIO vendute nel mondo sono quattro, è un'azienda che ha delle perdite mostruose, mostruose, le macchine per carità sono anche belline, sono fatte benino, però boh, questo è diciamo un tema che è tutto da vedere, l'esistenza di un marchio del genere, visto che ho considerato che solitamente le marche automobilistiche hanno bisogno di vendere automobili per campare, sembra invece che i marchi cinesi spesso e volentieri meno vendono più campano, io questa roba qua non me la spiego, però di fatto NIO esiste ancora, doveva fallire già da mo', ma come sempre anche oggi, soprattutto la roba cinese fallisce domani. Evidentemente poi la finanza e i giri d'eschei a certi livelli fanno sì che le normali regole dell'economia, quelle da fornaio dei quartieri, cioè quanti soldi rimangono nel cassetto la sera, evidentemente poi non funzionano, cioè meno ce ne sono, meglio vai. Evidentemente, non lo so, credo che funzioni così a questo punto, perché se non vendi niente e queste continuano a campare, non lo so, però la cosa incredibile è che pur non vendendo niente, pur continuando a campare, hanno delle strategie su questo marchio qua, perché evidentemente hanno visto che comunque il marchio NIO dagli elettricisti è percepito quasi come se fosse Tesla, per intenderci, hanno in mente un piano per cercare di aggirare da un lato quelli che sono i dazzi sulle macchine di importazione cinese in Europa e soprattutto per cercare di rifilare chiaramente i loro prodotti qui nel vecchio continente, iniziando un po' alla volta diciamo a bypassare questa regola utilizzando una strategia che stanno utilizzando anche altri cinesi che costruiranno macchine poco fuori Barcellona, qualcuno le costruirà in Ungheria e NIO invece le vuole costruire, sapete dove? A Bruxelles. Giuro, ma non nel Parlamento Europeo, magari, le faranno nello stabilimento Audi, che Audi sta chiudendo. Sembra, sembra, ho detto sembra, sembra che degli emissari di NIO, quindi dei cinesi, siano andati a vedere lo stabilimento lì a Bruxelles, dando un'occhiata a quelle che sono le facilities per la realizzazione di macchine, quindi la possibilità ad esempio di stampare la miera, la possibilità di costruire auto elettriche, le competenze di queste operai nella costruzione ad esempio di questo tipo di vetture, chiaramente anche tutte le tecnologie e l'indotto che può consentire la realizzazione di questo genere di macchine al netto poi chiaramente di quello che poi possono portare loro dalla Cina a Navate. Quindi questo è un po' il succo del discorso di un tentativo di ampliamento che stanno facendo appunto questi cinesi, interessandosi a degli stabilimenti europei che noi dobbiamo chiudere perché noi non siamo in grado di comprare macchine elettriche, cioè i numeri sono zero, i costruttori automobilistici si stanno un po' seccando anche di questa storia, quindi diciamo certi stabilimenti che erano stati dedicati, come quello lì dove fanno la quota e Tron per intenderci, vengono praticamente chiusi, un botto di gente rischia di essere lasciata a casa a meno che appunto non si trovino accordi con aziende come la NIO che invece di macchine elettriche ne vuole fare, non so a chi le vogliono vendere ma di fatto vogliono tentare di capire se magari attraverso anche dei finanziamenti, delle robe eccetera eccetera possono pensare di realizzare vetture in Europa girando appunto la regola della costruzione, anzi del Dazio se la vettura è costruita in Cina e quindi chiaramente riuscendo ad essere competitiva in un mercato come quello europeo che qualcuno dice che non è elettrico solamente perché costano troppo, tra virgolette, quindi se mette l'incentivo la gente sarebbe anche disposta a comprare macchine elettriche ma di fatto siccome a NIO punta i mercati comunque nord europei appunto come la Norvegia, l'Olanda, la Svezia, Danimarca, tutta sta roba qua, che comunque le macchine elettriche in qualche modo le compra perché sono mega incentivate eccetera eccetera e quindi qualche decina di migliaia di vetture posso immaginare che un marchio del genere a lungo andare possa anche venderle e possa apprezzarsi stabilmente in buone posizioni appunto offrendo anche un prodotto perché no tecnologicamente avanzato nell'attesa che poi questi pensano nel 2035 si diventi solamente elettrici. In realtà ci sono tanti discorsi che stanno facendo sulla questione del solamente elettrico ma poi vedremo quello che succederà. Di fatto la possibilità che appunto Audi venda c'è anche perché poi non stanno andando avanti con la realizzazione di vetture, NIO certamente può essere interessata all'acquisto di una fabbrica del genere e può essere anche che l'Europa possa essere interessata visto che ho considerato che le politiche industriali qua sono quello che sono, può essere anche interessata ad avere partner che arrivano dall'Oriente che si costruiscono le loro macchine però utilizzando mano d'opera europea. È un po' quello che fanno per intenderci anche tutti praticamente per tenersi buoni i locali, fanno lavorare i locali utilizzando poi chiaramente i pezzi, la maggior parte dei pezzi che arrivano da dell'A, quindi le batterie se le porteranno probabilmente da dell'A, ma le assembleranno poi qui a Bruxelles facendo quindi la NIO europea al cento per cento, quindi un grande però facendo anche lavorare persone, questo può essere sicuramente visto come un elemento positivo anche se poi in realtà tutti i capitali, tutte le questioni eccetera eccetera vanno a finire in Cina. Quello che manca è sempre una visione industriale veramente di un certo tipo cioè non si capisce come si possa magari anche incentivare aiutare l'arrivo di un costruttore cinese e quindi sponsorizzarne magari anche la costruzione di aziende o comunque l'ammodernamento di aziende che vengono abbandonate per colpa di politiche industriali sbagliate da parte dell'Europa, invece questi li aiuti a venire e li fai fare le macchine. Cioè non capisco il senso di non invece spingere con politiche logiche quello che è invece la realizzazione delle macchine normali europee e quindi con la possibilità da parte di Audi di tenerlo aperto sul stabilimento. Ce l'hanno sempre tenuto aperto uno stabilimento da centomila macchine all'anno, 120 mila macchine all'anno, una roba abbastanza grossa, non si capisce il senso di cederlo ad altri quando in realtà si potrebbero tranquillamente fare delle macchine normali all'interno lì che possono anche vendere, basterebbe appunto avere un progetto industriale che va oltre alle regole del 2035, va oltre alle regole dell'inquinamento, va oltre alle regole di tutti i tipi che ci stanno mangiando e che quindi questa roba qui sinceramente non la capisco. Di certo non faccio il politico, di certo non pretendo nemmeno di avere in mano la sfera di cristallo però così da uomo della strada mi chiedo come sia possibile che cose del genere avvengano appunto che si sponsorizzi qualcuno che viene dall'estero per intenderci o che appunto ci si sia ridotti a vendere degli stabilimenti che abbiamo creato noi europei a gente che viene qui a fare macchine venendo da molto lontano. Non lo so come se noi qui non fossimo capaci di fare macchine, come se noi qui non avessimo sempre comprato le nostre macchine, come se noi qui appunto non fossimo più capaci, come ci fosse un incantesimo che non ci permette più di fare le cose come facevamo prima. Sicuramente una delle dinamiche di tutta sta roba qua sta nel fatto che i brand stanno perdendo potere e questo è un tema sicuramente molto importante cioè rimarranno i brand quelli veramente fighi, la Mercedes, l'Audi eccetera eccetera ma i brand normali vengono rimpiazzati in quattro secondi da quelli che sono invece i brand nuovi quindi anche per una persona comprarsi una Omoda al posto di una Nissan è l'ultimo dei problemi comprarsi una Jaiku al posto di un Range Rover è l'ultimo dei problemi cioè comprarsi un marchio nuovo che ha così una parvenza di novità che sa quasi di tecnologico eccetera eccetera lo fanno volentieri tanto è vero che poi ad esempio nei telefoni siamo abituatissimi a comprare queste cose qua un condizionatore te lo compri tranquillamente di una marca cinese appunto un telefono compri cinese compri tutto cinese poi fondamentalmente basta che sia mediamente carino che abbia un'idea di qualità mediamente bellina e diciamo sei disposto ad abbandonare i brand che ti hanno sempre accompagnato per tutta la tua vita così in uno zik andando quindi a favorire quello che è diciamo un marchio nuovo e che non ha nulla a che fare con magari la storia di un marchio che appunto ti ha accompagnato nel corso della tua esistenza che dovrebbe darti una certa fiducia ma evidentemente quella fiducia lì non è più in grado di dartelo c'è una dinamica strana relativamente a questa roba andrebbe a profondità anche psicologicamente perché effettivamente probabilmente partendo dai telefonini dai computer partendo dai televisori appunto dai climatizzatori tutta questa roba qua che sono prodotti di largo consumo evidentemente poi si guarda e si bada un pochino di più il prezzo dando per scontato il fatto che la qualità sia ad un livello comunque minimamente accettabile relativamente all'utilizzo che una persona può fare dell'oggetto che sta comprando quindi questo è un po' il suo discorso quindi nio probabilmente punta sicuramente i mercati del nord europa facendosi le macchine lì probabilmente lo stabilimento non arriverà a tuono come a centomila macchine all'anno come potrebbe fare centocinquantamila macchine all'anno come potrebbe fare ma magari ne farà 20 30 40 50 mila non lo so però di fatto credo che l'idea di un costruttore cinese lì piaccia sicuramente l'europa come del resto stava piacendo in italia all'arrivo della fab lì in emilia romagna quindi non c'è mai stato un freno da parte della politica per investimenti di aziende cinesi o aziende orientali nel contesto delle nostre aree e quindi non credo che nessuno li fermerà ma appunto non li fermerà nemmeno il mercato se faranno dei prodotti buoni se faranno dei prodotti adeguati sicuramente li premerà con dei numeri e probabilmente loro fanno bene ad investire mi chiedo proprio perché invece non riesca ad investirci il gruppo volkswagen forse perché sono troppo persi a pensare a come stare dietro alle regole che gli vengono imposte dell'europa piuttosto che appunto sviluppare delle cose sviluppare anche degli accordi con l'europa stessa che gli permettono quanto meno di essere visti allo stesso livello dei cinesi che stanno arrivando nel consumimento dei soldi faccio abrigo e c'è il senso di sta roba veramente non la capisco comunque sappiate che lo stabilimento di bruxelles è così in visione da parte di quelli della neo e chissà se lo compreranno chissà se ci faranno dentro delle macchine lo scopriremo se lo vivete ciao e a presto